Sospendere Presidente, se vuole sospendiamo un attimo la seduta Lei oggi è particolarmente ispirata, onorevole Colletti, a me fa molta simpatia Prego Mi rimetto all'aula Siamo all'1604, quindi il relatore di minoranza si rimette all'aula Andiamo all'1602 Presidente, una cosa Questi emendamenti in realtà in Comitato di Nove c'è stato detto che erano ipotesi di coordinamento e non emendamenti nuovi numerati Quindi vorrei sapere in questo caso come comportarmi Perché qualora fossero stati emendamenti nuovi numerati sarebbe stato ben diverso Mentre in Comitato di Nove c'è proprio scritto ipotesi coordinamento se vede in alto alla lettera Quindi o è un'ipotesi di coordinamento formale No, 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 formalmente sono stati presentati come emendamenti e quindi in quanto tali sono numerati con la numerazione della Commissione Se su questo vuole precisare il relatore Prego È un'obiezione che era stata già sollevata in Commissione E il Presidente aveva specificato che queste proposte di coordinamento venivano costituite come proposte di emendamento della Commissione E in questo senso sono stati espressi pareri favorevoli Va bene A questo punto è l'1.602 Mi rimetto all'aula Aula 1.20 Ferranti Siamo a pagina 14 Mi rimetto all'aula Aula 1.21 Bonafede favorevole 1.22 Santerini Contrario 1.24 Miotto Contrario 1.25 Colletti favorevole 1.41 Turco Contrario 1.27 Ferranti Mi rimetto all'aula Aula 1.605 della Commissione Un momento 1.21 1.26 Ferranti 2.26 1.30 2.30 1.27